Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di distribuzione. Questo argomento, a parer mio, è uno degli elementi chiave quando dobbiamo scegliere una nuova automobile. Non possiamo soltanto guardare la stazza dell'automobile, l'utilizzo che ne facciamo e quindi guardare solo verso l'alimentazione. Dobbiamo guardare anche gli aspetti caratteristici del motore, come ad esempio la distribuzione. Perché scegliere un motore che ha una distribuzione piuttosto che un'altra ci cambia sia a livello di costi, sia a livello di fai-da-te, sia a livello di manutenzione e quindi anche di durata del motore. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Le due grandi famiglie di questo componente della distribuzione sono la catena e la cinghia. Quelle forse più note a tutti sono le cinghie, perché di solito quando si va dal meccanico si dice Ah, devo cambiare la cinghia di distribuzione, ma dobbiamo sapere che esistono anche le catene. E che cosa cambia? Innanzitutto che cos'è la cinghia e la catena di distribuzione? È quell'elemento che collega gli alberi a camme a tutti gli elementi che devono muoversi all'interno del motore, come ad esempio la pompa del raffreddamento. Infatti in giro per il motore troviamo diverse pulegge e la catena o la cinghia sono comunque collegate a diversi elementi rotativi. Hanno anche il compito di mantenere in fase il motore. Se la cinghia non fosse dentata o se la catena non avesse i propri ingranaggi, sarebbe libera di scivolare, il motore andrebbe fuori fase e non riuscirebbe comunque a girare. La prima differenza è che la cinghia, nella stragrande maggioranza dei casi, è a secco. Quindi vuol dire che è contenuta all'interno di un carter in cui ci sono le proprie pulegge e questa gira liberamente. I cui punti a sfavore sono che potrebbe venire a contatto con dell'olio, potrebbe venire a contatto con una perdita del liquido refrigerante, può venire a contatto con qualsiasi cosa che si trova di fianco. Cosa che ad esempio con la catena invece non abbiamo, perché la catena si trova in un reparto stagno chiusa, a bagno nell'olio, quindi sempre a bagno e lubrificata, e questo le permette di non andare a contatto con delle perdite da altre zone del motore, quindi è protetta. La cinghia i punti a favore ce li ha nella sua facile sostituibilità. È molto più semplice sostituire una cinghia rispetto ad una catena, perché la catena ovviamente si trova all'interno di un carter stagno, per cui bisogna smontare il carter, tirare giù prima tutto l'olio, smontare tutti gli elementi della catena, quindi anche il tirante della catena, e rimontare tutto. Molto spesso tutte queste parti sono in zone un po' difficili da raggiungere, quindi bisogna smontare veramente tante cose. Per fare un lavoro del genere, il prezzo in officina di un cambio catena si aggira, se il meccanico è onesto, dai 350€ per una macchina piccolina, fino a 600€ ma anche 800€ per delle macchine più grosse. Anche perché molto spesso capita che i motori più grandi abbiano più catene, e non soltanto una. Invece sulla cinghia è molto più semplice, perché basta aprire il proprio carter, non c'è niente che cola perché è a secco, bisogna sostituire le cinghie, stando attenti a non far andare fuori fase il motore, ma questo anche per la catena, ma il processo di sostituzione è un pochino più semplice. Ad esempio per un appunto 188 Fire, che è molto semplice da operare, il prezzo in officina, sempre con un meccanico onesto, è di circa 180€. Da lì in su, però si arriva a un massimo di 350-400€, perché la durata è l'elemento chiave per scegliere se acquistare un'auto che ha una cinghia di distribuzione o una catena di distribuzione. Quando parliamo di cinghia, ovviamente parliamo di materiali gommosi, quindi deteriorabili nel tempo. Sicuramente una cinghia dura meno nel tempo, un motore come quello di una Fiat ha da libretto di manutenzione, ci dà la sostituzione a circa 60.000 km. Vero che oggi i materiali sono molto migliorati e questo chilometraggio è aumentato tanto, quindi quando andiamo ad acquistare un'auto, dobbiamo sincerarci di prendere il libretto di uso e manutenzione e di vedere quali sono i tempi che la casa madre ci indica per la sostituzione dell'eventuale cinghia. È una catena, sì è vero è più costoso la sostituzione, ma è probabile che se viene fatta una buona manutenzione con un buon olio e si utilizzano gli oli consigliati dalla casa madre, probabilmente la sua durata sarà eterna. Se non è eterna, molto spesso il chilometraggio si aggira intorno ai 250.000 km, quindi diciamo che se acquistiamo un'auto e la teniamo a lungo e ci facciamo tanti chilometri, l'opzione catena di distribuzione, a mio parere, è fondamentale. La cinghia, nonostante noi facciamo magari pochi chilometri, dopo 8-10 anni va sostituita, che dopo 8-10 anni un intervento ovviamente ci sta. Un'altra cosa che ci può aiutare nella decisione di scelta tra cinghia e catena è che la cinghia rispetto alla catena non ci avverte del suo stato. Ad esempio valutare una cinghia usurata è un po' più complicato perché avendo il suo carter intorno, ovviamente devo andare ad aprire il cofano, smontare una parte di carter e con una torcia andare a vedere qual è lo stato della cinghia. Se ha delle crepe la devo andare a sostituire. Invece la catena da questo punto di vista è più comoda perché il motore fa un rumore un po' più strano. Quando comincia ad allentarsi il rumore è questo. Infatti allo smontaggio del motore che vi ho fatto vedere, che vi ho fatto sentire, vedremo che la catena ha una tensione un po' troppo morbida. E questo cosa significa? Significa che nel tempo la catena si è stressata a sufficienza, le maglie si sono un po' allargate e rischia di farci andare un po' fuori fase del motore. La conseguente problematica è che si possono rovinare le valvole, va fuori fase del motore, quindi rompiamo il motore in sostanza. Parliamo infine del fai-da-te, quindi quello che ci appassiona di più. Nel fai-da-te la sostituzione della distribuzione è uno dei lavori un pochino più impegnativi. La cinga di distribuzione è più semplice da sostituire e molto più veloce. Con la catena di distribuzione dobbiamo metterci l'anima in pace e probabilmente se non siamo degli esperti andrà fatto fare al meccanico se arriveremo a quel chilometraggio o se ne avremo bisogno mai. Quindi alla fine la sostanza di questo tutorial che vi ho fatto qual è? Qual è la scelta che dobbiamo fare? Se abbiamo davanti un'automobile con catena di distribuzione o con cinga di distribuzione? Io per il mio punto di vista ho sempre avuto automobili con catena di distribuzione e problemi non me li hanno mai 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 dati. La catena è durata per tutta la durata dell'auto e non l'ho mai dovuta sostituire e non ha mai fatto rumore. La cinga di distribuzione viene cambiata un po' più costantemente. Dipende sempre da quanta strada dobbiamo fare, dall'utilizzo che facciamo della macchina. Se abbiamo un motore un po' più grosso conviene ovviamente la catena perché è più resistente e se abbiamo in mente di fare tanti chilometri conviene che la catena sia presente anziché la cinghia. Quindi se abbiamo un'utilità aria piccolina da usare in città e non facciamo tantissima strada sicuramente avere la cinghia che ci costa di meno, che anche una manutenzione riusciamo a farla addirittura da soli probabilmente ci conviene. Ragazzi spero che il video sia stato utile. Mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanella, seguitemi sui social e su TikTok e condividete questi video. Mi raccomando nei commenti ditemi la vostra, ditemi la vostra esperienza e come la pensate. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!